Allora, queste sono le puntate che da uno a cento ci regalano una felicità pari a mille. Perché? Perché sta già sorridendo. Sara Ciafardoni l'abbiamo conosciuta, credo due anni fa, eravamo in collegamento. L'abbiamo conosciuta perché sua sorella Adriana, la dottoressa Adriana Ciafardoni, sceglie di laurearsi, di discutere la tesi di laurea, in ospedale accanto a sua sorella. La notizia giustamente fa il Giro d'Italia e non solo. E noi diciamo, ma chi è questa ragazza? Chi sono queste ragazze? La faccio breve, ve le presento perché così già vi innamorerete. Sara Ciafardoni, è lei, è lei la nostra meravigliosa, bellissima, stupenda, splendida ragazza. Ben arrivata. Grazie. Non vedi la faccia su contenta, perché noi siamo molto amiche, molto amiche. E Isabella Russo è la mamma di Sara. E noi ringraziamo immensamente, vi ricordate averle qui oggi è stato veramente un grandissimo regalo. Sara è un vulcano, preparatevi. Sara mangia la vita, morde la vita, insegna a tutti noi a vivere. Lo so ben io che sono tra i privilegiati, che ricevono nottetempo anche i suoi lunghissimi WhatsApp stupendamente scritti che termina sempre... Scusate se ho fatto degli errori, non ne fai neanche uno, quindi non riesco a capire. Va bene. Questa ragazza su Instagram, chiocciola la Sarabux, 26.000 followers. E voi sapete cosa voglia dire. Il blog, la lettrice e sognatrice con migliaia e migliaia di contatti. È una blogger, ora lo dico, è una bookstagrammer. Perfetto. L'ho detto. Tra le migliori che esistano. Mondadori, eletta Young, ha appena pubblicato il suo secondo libro, ovviamente, La ragazza che scrive. Adesso io sto zitta e parlate voi. Aspettate, la ragazza che scrive ne ha scritto Albano, Andrea Bocelli, che ha incontrato Sara esattamente come Albano, che parla di paterno amore per Sara e ha scritto parole meravigliose, Paola Perego. Dunque, cara Sara, ben trovata. Ben trovata Paola. Io ho fatto un monologo, praticamente, ma ben arrivata qui. Grazie. Allora, come sta andando, signorina? Meravigliosa signorina. Allora, è un periodo tanto pieno. Sì. E ovviamente anche grazie al libro. Poi sono una studentessa, sono i 17 anni, quindi è ancora più ricco perché quest'anno la maturità. E sono una grande lettrice, quindi continuo a leggere tantissimo volte che scrivere. sentite, ve lo chiedo, prima di passare, ma come si fa a non innamorarsi di una ragazza così? Cioè, è un distillato di purezza, intelligenza, capacità, comprensione, vita, come ce ne sono veramente pochi a questo mondo. E mamma Isabella lo sa, perché mamma Isabella a sua volta, poi vi presentiamo tutta la famiglia, non vi preoccupate, non vi chiamiamo in onda, ho già sentito un fremito di terrore, ma ve li presentiamo tutti. Mamma, ovviamente, di Sara, che è la secondo genita, una mamma coraggiosissima, fortissima, tenace, che sa che questa figlia può veramente arrivare queste figlie, ma questa figlia possa arrivare ovunque voglia. È così Isabella? È una bimba che si è aggrappata alla vita sin dall'inizio, ha lottato per esserci fortemente, come ti avevo già raccontato prima. Per rilassontiamola. Sara nasce mentre io facevo una chemio ed ero avanti, quindi non sapevo di aspettare un bimbo, e quindi ho continuato io con la chemio, quando poi mi sono accorta di essere incinta, mi hanno detto di interrompere la gravidanza per uso terapeutico, io ho chiamato mio marito e ho chiesto lui, io lo voglio questo bimbo perché lo cercavo da nove anni e non è mai arrivato, cioè non è mai arrivato. E arriva in un momento in cui io pesavo molto poco, ero molto debilitata e lo prendo come veramente un segno divino, lo prendo come qualcosa di importante. Un giorno porterò Sara ad Assisi perché in un viaggio di ritorno da Milano, mentre facevo la chemio, chiesi a mio marito di andare ad Assisi. Non ero mai stata, volevo andare lì, stavo molto male e io dico sempre una mamma sana di mente chiede un miracolo per se stessa. Ecco, io credo di aver sempre voluto una seconda maternità che non è mai arrivata e quando ero lì dicevo ti prego fammi diventare mamma, cioè non ho chiesto di guarire ma di diventare mamma e credo che mi abbia ascoltato. Poi sono cose che se uno ci crede o non ci crede io non lo so, però in quel momento con il pianto agli occhi ho chiesto questo. Dopo poco quando mi dissero che erano molto preoccupati pensavo che il tutto si fosse diffuso da più parti del corpo e invece aspettavo solo un bambino. Per loro era un dramma, per me era un raggio di sole e ho creduto fortemente perché nessuno mi ha aiutato, i medici giustamente aiutavano me ma non il bimbo che sapevano che poteva nascere con gravi problemi come è nata Sara. Invece lei si è attaccata e da lì ho capito che non mollava, io non ho mollato, lei non ha mollato, l'ho tirata fino a quando io ce l'ho fatta, lei ha fatto delle grandi battaglie da piccola, aveva poco meno di tre mesi il suo primo intervento e poi abbiamo fatto un lungo tour di interventi, non ho mai mollato, mai, mai, mai. Adesso con tutta la parte di là dello studio che piange mettetevi nei miei panni, come faccio io a continuare, continuo. È il mio lavoro e piangere Sara è una cosa che lava gli occhi e poi si vede tutto molto meglio. Noi ci siamo incontrate che tu potevi stare solo distesa, adesso stai facendo i tuoi bravi passi in avanti. Sì, però con tanti piccoli passi poi si può scalare un monte enorme. Attenzione all'Everest signori, avvisateli quelli che stanno sull'Everest perché la cefardoni sta arrivando. E non dico questo per strappare il sorriso, lo dico perché Sara tu sei, e lo dicono tutte le persone che ti seguono, tutte le persone che ti vogliono bene, sei una costante lezione di miglioramento della vita che deve essere prima di tutto interiore. E poi passeremo a tutto quanto il resto. È un po' la mia filosofia di vita perché nel momento in cui tu stai bene dentro puoi combattere ogni cosa, però devi avere l'anima serena, l'anima pulita. La fede è importante per te, Fili? È importantissima. Non è un qualcosa che mi hanno inculcato i miei genitori, ma è stata un'esigenza interna. Io non credo in un Dio che dà e toglie, quindi non cerco il miracolo. Invece ho trovato in Dio e nella mia fede quel migliore amico che riesce a portarti su nei momenti in cui sei veramente tanto in basso, quella mano che ti rialza. Per me è questa la fede e sarà sempre così. Se a casa, ma che dico se? Voi a casa, tantissimi che ci state seguendo, chissà se ci seguono anche i nostri frati di Assisi della Basilica di San Francesco, chi lo sa? Ci aspettate? Perché c'è Sara Ciafardoni qui in studio e credete, è un grandissimo onore. A tra poco. La gioia, l'onore e l'orgoglio di avere oggi nostra ospite Sara Ciafardoni con sua mamma Isabella Russo. Allora, Sara è entrata all'ospedale Gaslini di Genova, doveva essere un intervento di, diciamo, con una durata rapida. E invece è durato il tempo di permanenza a Gaslini molto di più. Piano piano, passo dopo passo, tutto migliora e migliorerà. E com'è questa storia che tu ti devi ricaricare ogni giorno come il cellulare? Sì, io sono un cellulare ormai vivente, una ragazza bionica. Quello non avevamo dubbi. Anche strepitosa. Ma? Ma ho fatto questo impianto che funziona con corrente elettrica. Io ho impulsi di corrente elettrica e ovviamente come i cellulari io mi devo caricare. Ho una fascia che devo appunto attaccare e all'interno di questa vi è una batteria e io proprio con i telefoni mi carico in modalità wireless. Io l'amo follemente, scusate, non so voi. Cioè, qui siamo proprio all'amore spinto. Attenzione, perché tutto questo serve, lo dico in maniera molto povera, come terminologia, ad ingannare il midollo. Cioè, cervello e midollo non parlano e noi li inganniamo così. Quindi, buono, ottimo lavoro. In realtà Sara è sempre carica, sempre. giorno e notte. Sara, questo ci tengo a dirlo. Ha saputo, tu hai saputo e di conseguenza tutta la tua famiglia, fare in modo che il dolore, tanto che tu hai provato, provi, la tua è una malattia difficile, diventasse una parte della tua giornata. Non ti sei fatta travolgere da tutto questo? Come si fa? Anima bella? Sicuramente è un percorso questo, però io ho una grande fortuna, perché accanto a me ho la mia guerriera, che prima ancora che io nascessi ha lottato per me, prima ancora che per lei. Mi ha infuso in me la forza, che secondo me è il regalo più bello che una mamma possa fare. Poi ovviamente da me ho cercato di imparare a gestire questa forza, a parlare, a dialogare con il mio dolore, perché non è diventato un mostro, ma una parte di me, un amico che devo conoscere per bene, prima di giudicarlo, e poi sai, fin da piccoli si è una spugna, si vede e si riflette quello che è in famiglia. Se io ho una famiglia forte, nello stesso modo lo sarò anch'io, non mi faccio travolgere dal dolore, non ci siamo mai fatti travolgere dal dolore, e questo mi porta ad essere serena, perché secondo me la serenità è l'elemento cardine per avere una vita migliore. Sara parla come un libro scritto, l'avete sentita? C'è la lingua italiana che sta solluccherando, riceveremo una lettera in redazione della lingua italiana che dirà grazie di aver invitato una ragazza che non da oggi sa parlare così la lingua italiana, perché lei legge, legge, studia, studia, Sara Ciafardoni studia tantissimo, e non solo libri di lettura, ma quello parleremo poi, insomma lei qualsiasi cosa l'approccia in questo modo, in quei lunghi mesi dove l'ospedale Gaslini, come sempre avviene in questi casi, diventa casa per i piccoli, non troppo piccoli, ma una ragazza, insomma per i pazienti, nasce questo tuo secondo libro, che è un romanzo molto importante, non solo perché il tuo secondo romanzo è proprio bello, perché è così importante questo libro? È tanto importante perché l'ho scritto nel periodo appunto di Genova, ma era già un'idea che avevo da tanto, e avevo iniziato a scrivere qualche capitoletto prima di questo intervento. Poi è stato un periodo che mi ha fortemente cambiata, e appena uscita dall'ospedale non mi ritrovavo più proprio nella mia di scrittura, eppure avevo l'esigenza di trasformare le emozioni che avevo dentro in qualcosa di concreto. Ho iniziato a scrivere, nello stesso periodo sia io che la protagonista, Lucia, abbiamo intrapreso un percorso per uscire da un momento buio e accettare il proprio dolore e trasformarlo in qualcosa di bello. Infatti, come se fosse un fiore, ecco, abbiamo cercato di sbocciare. Ovviamente la storia prosegue per tanto tempo e Lucia rappresenta proprio quello che vorrei essere, ovvero modificare questo dolore, accettarlo, interiorizzarlo e renderlo qualcosa di veramente bello. Lucia si chiama per i suoi cari Luce, e ho scelto questo soprannome non a caso, ma perché rappresenta per me la luce in quel periodo tanto tanto buio. Dunque, Lucia, la protagonista di questo libro, si rifugia per uscire da quel buio e per diventare ciò che diventerà nella mansarda delle nuvole. Questa ragazza, Sara Ciafardoni, ha le spalle larghe come i giocatori di football americano, quelli che giocano il Super Bowl, senza imbottiture. Le spalle larghe così, questa ragazza. Le ha lei, le ha la sua famiglia, le ha un esserino così aggraziato, Isabella, così delicato, che è in realtà una vera macchina da guerra. E lo è perché voi l'avete educata così. Dove arriva, Sara? Dove arriverà? Non lo so. Io spero che lei possa essere artefice della propria vita. E per esserlo deve libera e autonoma da questo impianto. Non dobbiamo dipendere da un tecnico, ma vorrei e spero che con le sue capacità lei possa un giorno essere padrona di se stessa, di un telecomando, perché lei vive con un telecomando che ha un'autonomia, diciamo, può far lei poco. Poi diciamo, i tecnici hanno invece il palmare che possono modificare gli elettrodi che ha impiantati. Certo. E giustamente nella tua preoccupazione di mamma e nella tua anche certezza di mamma, cioè, voi siete una famiglia che ha davanti a sé un concetto di salita e di scala molto preciso e molto netto. Cioè, sono arrivato fin qui, dobbiamo salire ancora un gradino. Poi ne dobbiamo salire ancora uno, poi ancora uno. Sì, sì, sì. Ma perché la vita è questo. Cioè, io non ho mai educato le mie figlie ad accontentarsi. Le educo che ci sono delle cose, c'è una montagna, bisogna arrivare e poi dopo c'è un panorama strepitoso. E io spero che loro un giorno possano arrivare alla vetta di questa montagna e godere della bellezza che si può, che gli occhi possono guardare, le stelle, il sole, il cielo azzurro, tutto quello che c'è di bello da fare. Ecco, questo ho sempre detto a loro, step by step. Io so che in questo momento noi siamo in onda, anche in tanti ospedali. Siamo in onda a casa di persone che stanno nel loro letto o di persone che stanno accudendo chi si trova in un letto. Il motivo per cui vi abbiamo presentato questa famiglia socialmente pericolosa, perché di questo si tratta, è pericolosa per il male la famiglia Ciafardoni, è pericolosa per l'assenza di speranza la famiglia Ciafardoni, è pericolosa per tutti coloro che dicono, ma sì, ma basta così, sono arrivato fin qui, basta. No, loro sono una lezione vivente e come tale pericolosissima di tutto quello che si può ottenere con il proprio cuore e con la propria forza. Continuando a non piangere, ma perché dovrei piangere? Poi insomma voglio dire, oltre che sarebbe una cosa che Sara non mi perdonerebbe mai. No, guarda come ha detto no. No, no. È bella lei. Ma come fai a essere bella quando ridi anche con la macchinetta ai denti? Sei perfetta? Grazie. Perfetta, perfetta, vi prego. Ci sono delle persone che scrivono film, torno sul tema. Scrivete un film su questa ragazza, credo che a Cerignola debbano accendere le luminarie quando la famiglia Ciafardoni passa, perché è un onore, è un orgoglio avere persone così a casa propria. Allora, Sara frequenta l'ultimo anno, appunto, siamo in maturità di liceo scientifico in una scuola che è a distanza e si trova dove? Si trova a Via Reggio, quindi in Toscana. È stata una scelta un pochino particolare perché ovviamente sapevamo che il periodo a Genova avrebbe potuto causare dei problemi e ci serviva una stabilità dal punto di vista dell'istruzione, perché io vivo grazie all'istruzione, quindi non averla bella salda sarebbe stato un grande problema proprio per la mia anima. Abbiamo cercato una scuola che potesse seguirmi in questo percorso, non che la mia scuola prima non avesse fatto il meglio, però ovviamente non aveva le competenze, gli strumenti più che altro per sorreggermi e io grazie alla scuola, specialmente al cuore della preside, al cuore degli insegnanti, sono qui, sto facendo l'ultimo anno e loro mi supportano in tutto e per tutto, ma non solo, ho trovato anche una classe stupenda di ragazzi un pochino più grandi di me, perché io sono la più piccolina, che mi tratta nel migliore dei modi, come se fossi la sorella di tutti quanti loro, ho trovato in loro proprio l'amicizia che leggevo nei libri, che credevo non fosse possibile nella realtà. Punto. Scusate, che non fosse possibile, bravi a via Reggio, mamma mia come siete bravi, bacioni, bacioni. Allora, Isabella dice, Sara mi ha fatto vedere la bellezza delle sfumature della vita. Quando voi viaggiate, intanto, scusate, questa è la famiglia al completo, molto natalizia devo dire, in queste foto che sono una crea, andate su Instagram, se i vostri nipoti sanno cosa c'è Instagram, care nonne, andate su questo, la Sara Books, perché sono tutte da vedere queste fotografie, dove c'è ovviamente presente anche papà Alessandro, di cui parliamo tra un attimo. Dicevo, le sfumature della meraviglia della vita, il vostro è un continuo, il vostro vostro familiare è un continuo dialogare sul concetto di bellezza. Sì, per me, per mio marito, la bellezza non è intesa come qualcosa che va commercializzata, cioè la bellezza, lo stereotipo che si può vedere, il fisico perfetto, la bellezza della vita, la bellezza della natura, la bellezza di un fiore, cioè la bellezza intesa in senso proprio ampio, in senso largo, anche aver cura di se stessi. Quando Sara si era operata al Bellaria di Bologna, il primo intervento l'aveva fatto, diciamo, di una lunga serie di questi al Midollo, l'aveva fatta a due anni e quando il medico mi disse, signora deve stare a pancia in giù per 30 giorni, io lì persi un po' la testa, nel senso che dicevo, non è possibile che una bambina di due anni possa stare a pancia in giù per 30 giorni. Lei lo ha fatto, noi eravamo a terra, io avevo da poco preso una paresi laterale, mio marito quindi era lì, io ero, diciamo, il cuore e invece Alessandro era tutto, braccio, cioè tutto, faceva proprio la parte di tutto, noi eravamo lì. Allora come fai a dire a questa ragazzina che è così, ti inventi di tutto e di più e poi dopo il mondo e la porti in tutte le parti e ne fai vedere la bellezza che c'è, lei si è innamorata della vita e la bellezza, e quando noi viaggiamo e se lei c'è una nuvola, oggi c'era, mi fa fermatevi, fermatevi, ma che succede, fermatevi, ma che cosa è successo? Guarda lì, c'erano due nuvole che formavano un cuore e poi da una parte e dall'altra c'era un'ala, ma sembrava così. E allora lei, che è una divoratrice di bellezza, ne aveva dato questa sfumatura bellissima, in realtà poi noi tutti abbiamo detto, sì, è vero, sembra proprio queste due nuvole che si uniscono e fanno un cuore. Ecco, lei coglie il dettaglio, il particolare, ciò che tu non vedi. Io da quando lei ha iniziato, diciamo, a guardare con i suoi occhi, non più con i miei, ma con i suoi occhi, io mi sono innamorata della vita. Io dico sempre che sino a 40 anni io ho vissuto, ma non in maniera... Io ero una di quelle, mordi e fuggi, prendi, fai, dici, non lavoravo, quindi non ho mai partecipato quasi mai a una recita di Adriana o arrivavo troppo tardi, cioè sempre questo. Invece quando è nata Sara, lei mi ha messo un freno a mano, cioè io veramente, la sensazione che ho avuto è quella di andarmi a schiantare contro un treno all'inizio, cioè proprio mi sono andata proprio lì, perché mi ha tolto proprio... Perché a lei? Io che ero una che non riusciva a stare a fare, ma lei proprio mi obbligava a un ritmo che io non sapevo tenere. Quando poi, insieme a lei, ho provato a respirare con il suo respiro, mi sono adattata al suo tempo, io ho scoperto un mondo, un mondo che non avevo mai visto. E' accidenti che mi piace. Qualcuno mi aiuti? Questo è il mio, è la cosa che posso dirvi. Allora, sì, tu Sara sei... Io poc'anzi ho citato... Aspettate un attimo, scusate. Ho citato Albano, Andrea Bocelli, abbiamo visto questa sua foto meravigliosa con Andrea Bocelli, Paola, Paola Perego. Tu sei una persona... Eccole! Scusate, eh, questo è Andrea Bocelli. Scusate tanto. Scusate se è poco. No? Eccola qua. Lei che ha... Se la guardate bene in questa fotografia, Sara, nella sua infinita dolcezza, nella sua infinita bellezza, agli occhi di un generale asburgico, Sara sa come dire alla vita, adesso io e te ci prendiamo sotto braccio e camminiamo insieme. Per questo tutta l'Ora Solare, tutta TV2000, ci tenevamo un mondo a presentarveli, perché sappiamo dove stia arrivando questo messaggio in questo momento. Arriva anche a persone che stanno benissimo, a persone che magari pensano che sia un grave problema, l'ultimo litigio che gli è capitato. Guardate Sara Cefardoni, perché è una grande lezione. Senti, meraviglia, la tua... La tua capacità, la tua tenacia, molto spesso chiama in causa, spessissimo, tutta la tua famiglia. Allora, qua siamo riusciti, già la volta scorsa avevamo in collegamento anche la mamma, c'era anche la dottoressa Adriana in collegamento, però non c'era il papà. Ora, il papà ha dei grandi occhi azzurri, buoni, belli, non solo gli occhi. Questo papà, tu che sai scrivere, come me lo descrivi in poche parole? In poche parole, lui è il mio faro. Lui è un uomo che non parla tanto, ma sa agire, sa mostrarti il bene che ti vuole. Lui è il bene per me, è quello che vorrei essere. Vorrei avere la sua infinita dolcezza, i modi, perché anche semplicemente quando ti saluta lui è buono, si vede. Come dici tu, lui ha quegli occhi bellissimi, che sono molto simili a quelli di Adriana, e in quegli occhi vi è la loro anima. Tu li guardi e comprendi tutto di loro, la loro bontà, la loro delicatezza. Per me sono questo. un papà in particolare, le mie braccia, le mie gambe. Dove non posso arrivare io, arriva lui per me, e anzi mi porta con sé. Lui è il mio tutto. Un attimo di silenzio. Questo si chiama amore, questo però è un amore bionivoco. Sì, secondo me, io e papà, a parte, noi siamo come un pezzo di un puzzle. Noi ci incastriamo perfettamente, non siamo simili, però abbiamo quelle differenze che ci permettono insieme di essere unici. Non sono cinque anni che facciamo questo programma. Sì, ecco, sento anche da lontano affermazioni. Isabella, la volta scorsa aveva detto vorrei citare ancora mio marito che poteva andare via e costruirsi una vita lontana da noi. Io ho una sofferenza, signora Alessandra, non trascinarla su questo divano che lei neanche... mi fa segno. Ha costruirsi una vita lontana da noi come d'altronde avrebbe voluto tutta, probabilmente la gente, no? Intorno a lui. Alessandra non è soltanto rimasto, ogni giorno mi regala il suo sorriso. Mi guarda e mi dice che sono bella e mi chiede non mi lasciare. E lei cosa gli risponde? Tu cosa gli rispondi? Sono io che devo dire a te non mi lasciare. Ma guardati, sei bello come il sole. Dove dovrei andare? Questa famiglia è vera. Questa famiglia non si è intinta nello zucchero e nella melassa per raccontarvi tutto questo. Questa famiglia conosce il dolore. conosce anche la mortificazione che il dolore porta con sé quando le persone non capiscono il dolore. So quello che sto dicendo. Ed è esattamente come noi ve l'abbiamo presentata. La famiglia... dimmela tu la parola che sei più brava di me. Eh non posso giudicare la mia famiglia. Ma smettila adesso non posso giudicare la mia famiglia. Una famiglia vera. Reale. E? Eh spero te nasce forte. Nelle nostre fragilità perché siamo tutte e 4-30 fragili ma quel famoso puzzle si compone ancora di più quando siamo tutti insieme. Infatti ci muoviamo a gruppo. A testugine romana proprio. Cioè vi spostate dove si spostano loro tutti 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 li vedi andare tutti quanti insieme. La ragazza che scrive questo lo so mi rendo conto ad un autore e non avete idea di come scriva Sara Ciafardoni. Cioè hanno idea coloro che hanno letto il precedente libro? Con tutto l'amore che so. Con tutto l'amore che so. La ragazza che scrive cosa scriverà dopo questo libro? Sicuramente è una nuova storia che possa aiutare i ragazzi a comprendersi e gli adulti a comprendersi o magari a trovare parti di sé che non immaginavano neanche di possedere. E questo è anche quello che è la ragazza che scrive e che spero possano diventare tutti i miei romanzi. Perché in primis scrivo per me stessa per aiutarmi e per comprendermi e poi spero che quelle emozioni che ho vissuto nel mentre che scrivevo possano poi riflettersi sui lettori. Sara scrive in tutte le ore del giorno Sara scrive molto anche la notte molto spesso lei dice i dolori sono talmente forti ma io li conosco i miei dolori e io scrivo 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 un'ultima domanda signorina Sara Ciafardoni i tuoi compagni di scuola le persone che ti incontrano le persone della tua età perché tu sei tanto ragazza anche proprio nei modi che cosa ti chiedono non che cosa ti dicono che forza ti chiedono di regalare o che che cosa ti chiedono? sai una richiesta in particolare non c'è se non il fatto di far sì che loro magari tramite una mia espressione involontaria una mia parola involontaria trovino qualcosa che li manca dentro e questo mi rende eternamente felice ad esempio i miei compagni di classe non li vedo spesso perché purtroppo devo continuare a passare la mia vita in un letto per la maggior parte del tempo quindi ovviamente con loro mi sono vista davvero poco eppure si è creato questo legame così grande dove scambiamo emozioni e mi fa sorridere che non pochi di loro mi abbiano detto che io io Sara che ho così tante insicurezze siano l'amica che stavano cercando io e mi rende mi rende veramente immensamente felice perché magari semplicemente uno scambio di parole un consiglio per loro è tanto invece loro sono tanto per me i miei quei tani Alessandro Ciafardoni dottoressa Adriana Ciafardoni mamma Isabella che proprio mantiene la promessa del nome Isabella e Sara Ciafardoni non li togliete dal cuore nell'istante in cui li avrete incontrati io sono sicura che ad Assisi amici ci abbiano seguito organizziamo ci fermiamo solo per un attimo la ragazza che scrive Sara Ciafardoni grazie di essere stata con noi grazie 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 arriviamo tra un attimo grazie a tutti